Ciao Martina, allora ti ho fatto una piccola sorpresa, vediti tutto il video fino alla fine, poi ne ripariamo, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS io volevo fare questo scherzetto giusto per il drop che è una cosa molto speciale quindi vorrei che mi ascolti un po' più via anche perché c'è qualcosina da sistemare beh, spero che ti piace questa preview diciamo così non so avevi detto tempo fa che volevi fare un'altra canzone io non avevo idee per il momento sperimentando un po' questo genere naturalmente già lo facevo tempo fa ma adesso con le nuove tecniche le cose che ho imparato sto cercando di migliorare sempre beh, non so, se ti piace ci vuoi il canta per fare solo per scrivere qualche presto mi fa tutto il piacere tipo alla lenta maniera perché è una canzone emozionale come la Identity Day lo so, spero che anche la tua vecchiava sia si aggiunta un po' a un punto che la stia passata bene e vedo che stia facendo la modella mi fa piacere per tutti i tempi se mi ti piace perché meriti e se diventi famoso ricorda di me a parte gli scherzi spero che stia passando un buon audio non ci siamo sentiti per un po' di tempo anche perché un po' io non avevo tempo un po' problemi vari un po' i tuoi problemi insomma si accavallano e quindi questo qua è il dunque bene, io ti lascio quando vuoi ascoltare insomma vediamo un po' tu se puoi fare qualcosa c'è problema era solo per dire che sono ancora qua ricordate ciao 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 buon ragione buon ragione guarda che faccia non se l'aspettava